Siamo qui questa sera, il primo luglio 2021, in questa nuova edizione dello Sherwood Festival. Dopo un anno di stop, finalmente è stato di nuovo possibile tornare a trovarci qui nel Parc Nord dello Stadio Euganeo. Questa sera il dibattito che presenteremo si intitola ecologia, sindemia, disuguaglianze. Andremo proprio a trattare un pochettino quelli che sono stati i temi veramente importanti dell'ultimo anno che tutti e tutte abbiamo vissuto. Parleremo appunto di ecologia, di ambiente, di come effettivamente l'intervento sull'ambiente abbia determinato quella situazione, quella condizione che abbiamo imparato a definire non tanto come pandemia ma veramente come una crisi sindemica ed andremo anche ad analizzare con i nostri ospiti e le nostre ospiti quelle che sono le disuguaglianze che hanno da un lato reso possibile effettivamente il palesarsi, lo svilupparsi di una condizione di questo tipo e dall'altro invece le disuguaglianze che seguono, che vengono determinate effettivamente da un anno pandemico come quello da cui stiamo uscendo. Questa sera iniziamo un po' la nostra discussione con due ospiti da Bologna, ci sono Isabella e Giovanni di Until the Revolution, collettivo di ecologia politica Bologna. Loro iniziamo a dare intanto il benvenuto e vorrei immediatamente entrare un po' nel merito, nel vivo della discussione che è iniziata un po' in ritardo per dei divertentissimi disguidi tecnici, iniziando a parlare di un progetto editoriale che appunto ha visto la luce in quest'ultimo anno, un volume intitolato Dialoghi nella pandemia, edito da Red Star Press e pubblicato appunto a giugno del 2021, un volume che raccoglie i contributi in realtà di numerosissimi gruppi di ecologia politica, un po' da tutta la penisola, contributi che sono stati appunto sviluppati, prodotti proprio durante la prima ondata, mentre ciascuno e ciascuna di noi era chiusa nelle proprie case durante il lockdown appunto. Un progetto appunto nato un po' in questa forma, in questa dimensione, un progetto che parla di moltissime cose, quindi in realtà prima un po' di entrare nel merito di quelli che sono i contenuti, di quello che è stato il sapere condiviso che queste discussioni hanno effettivamente messo a punto, vorrei chiedere una breve introduzione, magari per chi ci ascolta e non conosce esattamente questa realtà, di che cosa sia effettivamente questa rete di collettivi di ecologia politica, quali siano un po' diciamo le parole chiave, gli argomenti chiave, come sia nata, come stia tuttora crescendo, un po' che prospettive abbia e poi appunto passeremo magari a capire un po' meglio che cosa troviamo in questo volume. Grazie mille Anna Clara e grazie mille a tutti e tutte le compagne che insomma ci stanno ospitando in questo festival, faccio diciamo un appunto rispondo a questa prima sollecitazione di Anna Clara raccontando un po' che cos'è anche brevemente appunto la rete di ecologia politica network, appunto come la parola network ci dice, insomma ecologia politica è una rete di collettivi e laboratori di critica dell'ecologia politica che insomma sono nati in Italia anche in momenti differenti, ne continuano a nascere anche tuttora e per questo siamo contentissime, nascono in realtà prima ovviamente della pandemia e nascono come dire per cercare in qualche modo di relazionarci con quelli che sono stati i grandi movimenti della giustizia per la giustizia climatica che insomma hanno nel 2019 portato nelle strade, nelle piazze di tutto il mondo centinaia di migliaia di persone, di giovanissimi e giovanissime che insomma avevano, come dire, ci hanno dato l'opportunità in qualche modo di guardare di nuovo alla questione dell'ecologia politica, della giustizia climatica e abbiamo appunto cercato in qualche modo di, insomma come collettivi che erano già attivi su diversi territori, di insomma di riuscire a comunicare con questi movimenti per la giustizia climatica e in qualche modo riuscire appunto anche a radicalizzare quelli che erano dei discorsi che erano stati portati appunto alla ribalta da questi movimenti qui come Fridays for Future, Extinction Rebellion eccetera e abbiamo pensato però anche che ci fosse in Italia in qualche modo la necessità di legare un sapere critico, un sapere anche in qualche modo accademico con quelle che erano però le lotte territoriali che c'erano già presenti sui territori, tutti i comitati insomma che c'erano già e che parlavano in qualche modo di ambientalismo già da tanto tanto tempo per questo insomma qualche mese prima dello scoppio della pandemia ci si è ritrovate per la prima volta in presenza a Granara durante appunto un incontro, un'assemblea molto bella durante la quale insomma si cercavano di appunto buttare le basi di quello che sarebbe voluto essere il percorso di ecologia politica e quindi proprio la creazione di una rete che cercasse in qualche modo di portare una certa radicalità all'interno degli spazi che erano stati aperti nel 2019 facendolo appunto però cercando in qualche modo sempre una contaminazione che poi è stato quello che secondo me di molto bello si è venuto a creare quindi il fatto che questi movimenti qui ci abbiano dato la forza e l'opportunità ecco di approfondire le tematiche dell'ecologia politica e soprattutto insomma di legarle a tutte le altre questioni che poi anche nel libro vengono approfondite quindi insomma un po' andare veramente a fondo delle questioni delle questioni legando appunto la giustizia climatica con la giustizia sociale tutti quei discorsi che poi insomma hanno preso anche vita e protagonismo all'interno delle pagine di questo libro di cui magari adesso Giovanni insomma vi racconta un po' meglio la nascita e il contenuto e anche un po' le prospettive quello che ci piacerebbe che questo libro rappresentasse Grazie mille Isa veramente un po' per questa prima panoramica un po' su appunto quella che è la rete di ecologia politica sulla sua nascita appunto adesso vorrei proprio chiedere invece a Giovanni tra l'altro mi correggo prima ho citato il titolo del libro come dialoghi nella pandemia in realtà sono dialoghi sulla pandemia forse un lapsus dovuto al fatto che appunto li abbiamo seguiti tutti dal mezzo della pandemia davanti ai nostri schermi e quindi insomma diventa anche un po' difficile alle volte percepire qual è il confine tra quello di cui parliamo e quello che effettivamente stiamo vivendo per cui appunto dicevamo questo volume il sottotitolo è crisi riproduzione lotte proprio perché abbraccia attraversa una serie di prospettive molto molto diverse ricordo c'è un contributo ad esempio sulle conseguenze dell'occupazione militare in Sardegna ad esempio ma si parla di biodiversità si parla moltissimo di cura che è diventato un po' un late motive già lo era ma sicuramente a fronte di una crisi sanitaria come quella che abbiamo vissuto diventa un po' uno dei cardini del nostro pensiero politico del nostro agire politico soprattutto quindi chiederei appunto a Giovanni se al di là magari di una disamina una breve disamina ovviamente perché i contributi sono moltissimi di quelli che sono i lavori raccolti nel volume più che altro quali sono esattamente le prospettive che ci si aprono che cosa ci dice questo libro e cosa ci dicono queste parole al di là della situazione che abbiamo vissuto ma soprattutto pensando un po' a quello che andremo a vivere in quella che qualcuno già sta definendo proprio come l'era delle pandemie Allora intanto anche io ringrazio tutte e tutti per l'ascolto per la presenza e per l'invito qua parto insomma appunto da anche io da queste sollecitazioni cercando di inquadrare un po' anche quello che è il contributo del libro partendo dalla necessità per cui ecco abbiamo deciso durante la pandemia nella quarantena dove eravamo tutte e tutti e tutto divisi parcellizzati separati per anche motivi che ci siamo voluti accollare di autotutela collettiva ma che comunque ci hanno addossato addosso comunque una parcellizzazione una divisione anche di tutte noi che è stata anche alimentata da tutte le disuguaglianze sociali dai disagi che ci ritroviamo a vivere banalmente all'interno delle nostre case quindi questo progetto è nato anche come idea come qualcosa per cercare di rompere questo isolamento nel quale ci siamo trovate costrette un isolamento che ci siamo ritrovati costrette a vivere che abbiamo voluto tematizzare sin da subito non è stato qualcosa di casuale non è stato qualcosa per cui la responsabilità la colpa debba doveste o debba tuttora ricadere su di noi singoli e anche da questo infatti parte anche una riflessione che all'interno dell'introduzione su quello che è l'asse rispetto a un comportamento c'è anche quello che è un fattore di propulsione dell'asse neoliberista quello di additare sempre alle singole e singoli la responsabilità la colpa per ciò che sta accadendo nascondendo quelle che sono le vere e le reali responsabilità per le situazioni, le crisi che ci ritroviamo a vivere lo abbiamo visto perfettamente ed è stato espresso a gran voce dalle lotte per la giustizia climatica e sociale il fatto che appunto le enormi crisi ambientali che ci ritroviamo a vivere non sono causate dal fatto che io singola persona faccio la raccolta differenziata in maniera sbagliata la banalizzo ecco per permettere di capirci anche più facilmente il motivo per cui ci ritroviamo nella situazione in cui il pianeta è al collasso non è appunto dato da me singola persona che con i miei comportamenti individuali che a loro modo sono importantissimi mi comporto nella maniera errata ma è dato da un sistema di sviluppo da tutta una serie di responsabilità che sono indicate in grandi mostri devastatori come possono essere Eni insomma citiamo in particolar modo questo visto che è uno dei più grandi mostri devastatori presenti sul territorio italiano ma che agisce nel globo intero ecco un po' questo incipit per dire che da questa necessità ecco di far emergere cioè intanto di rompere l'isolamento in cui ci ritrovavamo costrette e poi di far emergere quelle che sono le vere motivazioni per cui ci ritroviamo a vivere questa crisi abbiamo deciso appunto di costruire tutta questa serie di seminari che si sono dati online e che poi abbiamo deciso di raccogliere trascrivere in quello che è appunto il libro che adesso si può trovare proprio per dare una narrazione opposta a quella che era la narrazione mainstream e dire questo non è una casualità l'ennesima crisi è qualcosa di tangibile delle conseguenze della devastazione ambientale qualcosa che è nato anche dalla necessità impellente di dire questo perché vedevamo che comunque le grandi lotte per la giustizia climatica e sociale dei movimenti come Fridays for Future, Extinction Rebellion e quant'altro stavano avendo un po' di difficoltà a riuscire a intromettersi all'interno di questo dibattito qua ecco vedevamo che mancava un po' magari il punto della questione a riguardo si cercava di dividere la discussione in dicotomie che noi combattiamo continuamente non crediamo che sia bianco o nero che ci sia un polo o l'altro ma appunto quello che ci ritrovavamo a vedere era che la discussione veniva molto orientata sul eh questo è un problema però allora la giustizia cioè i problemi riguardanti la giustizia climatica di quelli non ne parliamo più no, il punto è che fanno tutte parte dello stesso macro problema e questo era quello che insomma volevamo comunicare non sono questioni separate ma fanno tutte parte di un problema di un problema sistemico proprio come viene poi analizzato più specificatamente nel libro andiamo proprio a vedere cosa abbia portato all'incidere e poi al contatto con con il covid-19 cosa abbia portato l'essere umano a entrare in contatto con con questo virus qua che appunto ora non sto a entrare nel dettaglio eh relativo allo sfruttamento dei territori alla devastazione ambientale e eh al commercio scellerato dato da un sistema di sviluppo che è quello capitalista che eh poi ha portato insomma a ritrovarci in in questa crisi qua e detto questo insomma quello che è stata anche un'altra esigenza che abbiamo sentito che sentiamo come rete che abbiamo sentito di voler dare all'interno del del libro era quello di non scindere tutti i piani relativi a eh la questione eh sociale economica e e di disuguaglianze ma eh far vedere appunto non a caso e sono siamo contente che anche un'iniziativa come questa punti anche la centralità sulla parola eh sindemia e tutti i fattori eh che riguardano ecco il modello di sviluppo che domina questo pianeta sono eh correlati fra loro e determinano le crisi che ci che continuiamo a a vivere che poi ricadono sulle fasce più più deboli della popolazione ecco quello che siamo proprio andati ad analizzare poi con con i contributi è proprio come questo sistema qua eh basi la propria riproduzione sul continuo generarsi eh di crisi ecco è perfettamente preparato eh a queste anzi proprio su queste vengono basati gli investimenti e le modalità in cui eh il capitale si può si può rafforzare e con cui poi vengono rafforzate le disuguaglianze sociali e le linee di dominio che eh imperano su su questo su questo pianeta quindi insomma queste poi sono anche in parte eh alcune delle delle prospettive ecco che eh volevamo dare con con questo contributo che con estrema eh modestia vuole essere veramente un un contributo per per cercare anche di eh dare un un fuoco in più alla costruzione eh delle lotte che queste siano siano appunto eh trasversali e che riescano a vedere eh quelli che sono anche i problemi totalizzanti sistemici eh con anche tutte le specificità del caso ma che vadano a individuare il il nemico nel nel sistema tutto proprio per questo eh i contributi come dicevo eh sono molteplici eterogenei fra di loro e toccano eh varie tematiche eh che va va spaziano dal eh dal lavoro di cura tutte le rivendicazioni e gli insegnamenti delle lotte transfeministe a quelli che sono più problemi legati a al reddito alle questioni sociali eh al lavoro alla produzione alle riproduzioni come a quelle invece più eh legate eh a eh devastazione ambientale questo perché appunto crediamo che eh l'ecologia eh non sia qualcosa che si lega solamente eh alla difesa eh di alcune forme eh di vita come può essere alla difesa degli alberi eh ancora una volta porto un esempio banale per capirci più facilmente ma crediamo che sia qualcosa che eh non stia a guardare le questioni per compartimenti stagni ma che si leghi eh a tutti quelli che sono i valori le ideologie e anche le le pratiche relative alle lotte antifasciste antisessiste antirazziste antisessiste e e quant'altro insomma questo per dare un po' un delineamento eh molto generale di quello che che è stato questo questo progetto qua che poi in continuo di venire di quelli che sono eh alcuni dei contributi che si possono trovare all'interno del libro e di quelli che vogliono essere anche le eh future prospettive eh di lotta sia su sui territori con relativa alle proprie specificità che in senso eh più ampio eh relative appunto a un sistema che eh devasta e che ha eh attua linee di eh dominio e di sopraffazione eh colonialiste in in tutto il globo io ringrazio veramente tantissimo Isa e Giovanni insomma un po' per averci raccontato quella che è l'esperienza più complessiva dei collettivi di ecologia politica poi non le specifico appunto il processo e il lavoro veramente straordinario che è stato dietro la la produzione di di questo volume dialoghi sulla pandemia crisi riproduzione e eh lotte che tra l'altro potete trovare qua nella libreria di di radio Sherwood al al festival io ehm passerei velocemente in realtà al nostro prossimo ospite che introduco davvero brevemente si tratta di Gennaro Vallone professore dell'università di eh Salerno ehm che ringrazio anzitutto di di essere con noi anche se in forma virtuale questa diciamo è una di quelle cose che eh forse durante la pandemia speravamo di non dover rivedere mai più no l'idea di doverci eh vedere in call di trovarci a distanza in realtà credo che comunque sia una grande ehm un grande strumento e un'opportunità che eh fortunatamente in una qualche misura continueremo ad utilizzare quindi ringrazio il nuovo Gennaro Vallone per la disponibilità e per essere con noi appunto io eh rapidamente eh vorrei appunto parlare con con lui di questo il titolo della del dibattito del talk di oggi come eh menzionavo inizialmente proprio ecologia sindemia e eh disuguaglianze nella mia testa la prima parte della discussione sarebbe stata più che altro dedicata al tema dell'ecologia in realtà abbiamo visto benissimo come siano assolutamente inscindibili l'una dalle ehm dalle altre per cui pensavo appunto che magari in questa seconda eh in questo secondo slot in questa seconda parte ci saremmo potuti soffermare maggiormente su quello che è il concetto di sindemia no su questa sovrapposizione effettiva tra fattori eh sanitari fattori sociali fattori economici che in realtà preesistevano poi allo scoppio della all'esplosione della pandemia da covid ma appunto eh partire un po' da da questo concetto per arrivare ad analizzare come eh l'esistenza eh la la riproduzione delle eh e l'aggravamento in realtà delle disuguaglianze sia una condizione che effettivamente rende possibile da un lato il verificarsi di una sindemia che facilita lo scoppiare di una sindemia e dall'altro come la sindemia si configura effettivamente come un fattore che va ad aumentare poi in prospettiva le eh le disuguaglianze quindi ecco volevo fare un po' un ragionamento sulle differenze tra queste disuguaglianze tra quelle che esistevano in precedenza quelle che si aprono e ehm partire appunto a da questo punto di vista un ragionamento anche su quelle che sono alcune delle eh battaglie forse più storiche effettivamente perché quando andiamo a parlare di sovrapposizione tra condizioni di nocività diritto alla salute diritto ehm al welfare a un a un giusto reddito un un equo salario in realtà non stiamo parlando soltanto delle lotte delle rivendicazioni che abbiamo visto aumentare nell'ultimo anno ma pensiamo veramente ad una lunga ehm storia di battaglie di questo tipo quindi ecco Gennaro ti chiederei eh relativamente brevemente di raccontarci un po' eh la tua posizione a riguardo eh buonasera prima di tutto io non sono venuto a Padua perché noi abbiamo abbiamo Luca che è un nostro figlio che ha due anni e quattro mesi e e quindi non in questo periodo io non mi sto non sto non mi muovo ma non per il covid ma proprio non mi muovo con Rossella abbiamo deciso così questo è un fatto privato che però volevo non per giustificare ma volevo raccontarvi eh poi venendo invece ai punti eh precisi allora noi oggi credo nella giornata di ieri eh Adil eh l'operaio della logistica che è stato ucciso una settimana fa durante un picchetto a Novara è tornato col suo corpo è tornato presso il paese da cui da cui proveniva che cosa c'entra con l'ecologia politica e c'entra perché la lotta dei facchini è una lotta per guadagnare un po' più di salario e quindi la possibilità di avere maggiori e migliori condizioni di lavoro quanto più la precarietà lavorativa aumenta tanto più è difficile rivendicare la salute all'interno dei posti eh all'interno dei posti di lavoro e più complessivamente quanto più la precarietà aumenta tanto più è difficile per le persone trovare il tempo di organizzarsi eh all'interno dei territori nei quali vivono per eh migliorare le condizioni ambientali di vita eh per ridurre le nocività che ci sono nei territori in cui vivono allora c'è un nesso molto stretto tra precarizzazione e sfruttamento del lavoro ricatto sulla vita quotidiana proprio quella là di tutti i giorni perché per organizzarsi ci vuole il tempo per organizzarsi ci vuole la testa bisogna metterci il cuore bisogna metterci il corpo cioè ci vuole il tempo e il tempo è sempre più ridotto dai processi di precarizzazione e di sfruttamento del lavoro il nesso è strettissimo tra le condizioni lavorative non solo del lavoro salariato ma anche di buona parte di ampia parte ormai del lavoro del lavoro cosiddetto autonomo e la possibilità concreta materiale politica concreta proprio di lotta alle nocività questa è una prima questione fondamentale secondo me che ovviamente non è maturata oggi viene da lontano noi possiamo dire che le prime lotte che si inseriscono nella grande storia dell'ecologia politica sono le lotte degli schiavi per liberarsi dalla condizione di schiavitù possiamo dire cioè quindi stiamo parlando di secoli e secoli ma per venire a un orizzonte molto più vicino dal punto di vista storico noi siamo a Padova in questo momento Marghera è lì vicino e chiaramente Marghera ha una storia anche nella storia non solo del conflitto operario ma anche dell'elaborazione intellettuale politica italiana fondamentale ovviamente una parte dell'autonomia operaia una parte di quella vicenda si costruisce attorno e dentro in realtà Marghera ma come in altri posti in Italia fine anni 60 lì iniziano le lotte contro la nocività sul lavoro lo slogan era molto semplice non si scambia salario con nocività perché fino a quel momento nelle fabbriche chi lavorava nei reparti più nocivi aveva diritto a guadagnare qualcosina in più ad un certo punto le persone cominciano ad ammalarsi sempre di più anche giovani e chiaramente si organizzano per tutelare quello che noi chiamiamo la vita il vivente giusto no? ok e questo è avvenuto in tante altre parti in tante altre parti del mondo continua ad avvenire in tantissime parti del mondo soprattutto fuori dall'Europa soprattutto fuori dall'Europa e questa è la terza questione che volevo evidenziare la pandemia non è finita il libro è stato scritto dentro la pandemia c'è una parte alcune parti che parlano del post covid ma nel senso di transizione ma noi siamo pienamente all'interno della pandemia certo se noi guardiamo il mondo dai dati delle singole agenzie di stampa e allora sembra che avendo pochi ricoverati per fortuna nella telepia intensiva in Italia la pandemia è finita nel mondo invece purtroppo nel mondo ma non per la questione delle varianti ma proprio perché la diffusione del virus è stata globale è accelerata nel mondo siamo pienamente all'interno della pandemia la retorica istituzionale anche dei G7 G8 G20 e così via invece è quella di dire che siamo fuori dalla pandemia perché perché bisogna riavviare l'accumulazione questo è il problema noi non abbiamo mai bloccato il processo di accumulazione anche quando diciamo che ci siamo stati a casa a casa si è stata una parte della popolazione io lavoro all'università sono stato a casa ma i facchini della logistica le commesse i braccianti non sono stati a casa addirittura teniamo presente che i braccianti sono stati considerati dall'Unione Europea lavoratori essenziali alla sesta stregua degli infermieri e dei dottori ed è stato quindi consentito loro la mobilità all'interno dello spazio di Schengen e più complessivamente all'interno dello spazio dell'Unione Europea perché? perché bisognava garantire i braccianti e i lavoratori all'interno dei allevamenti intensivi alle economie centrali dell'Unione Europea quindi dall'economia spagnola all'economia italiana all'economia francese all'economia tedesca e quindi sono arrivati i braccianti e i lavoratori nei grandi macelli di maiali in particolare in Germania soprattutto dalla Romania definiti come lavoratori essenziali all'interno di una direttiva dell'Unione Europea questo per dire che cosa? per dire che la centralità è stata durante la pandemia e continua ad essere la riproduzione dell'economia e della società e dei rapporti di forza per come la conosciamo tant'è vero che in Italia non si pone il problema della redistribuzione della ricchezza si pone il problema di quando si può licenziare e licenziare vuol dire licenziamo questi qui in modo da assumere quelli lì con contratti peggiori di quelli che ci sono ora questo qui è all'interno anche del nostro di questo libro perché? e mi fermo nel libro si dice c'è un metodo che è quello dell'ecologia politica che cerca di tenere insieme diverse diverse diseguaglianze e diverse diversi processi il processo fondamentale è quello della sindemia cioè mettere insieme diversi processi che a partire da una patologia moltiplicano intensificano altre patologie e questo è il rapporto tra covid e le persone anziane tra covid e le persone con più malattie e impattano sui sistemi sanitari in maniera particolare e sui sistemi del lavoro in maniera specifica cioè sulla sulle diseguaglianze allora per finire il libro tra le cose che dice ovviamente dice se siamo dentro una sindemia non semplicemente una pandemia è chiaro che la via di uscita è quella di aggredire i fattori che hanno prodotto e che riproducono la sindemia tra questi fattori fondamentali c'è la rimozione la messa in discussione delle diseguaglianze la messa in discussione della dei sistemi sanitari abbattuti ridotti o addirittura inesistenti o privatizzati in molti paesi e quindi la messa in discussione delle diseguaglianze a partire dalle diseguaglianze all'interno del lavoro il nesso lavoro ecologia è un nesso fondamentale per capire anche le le prospettive alternative alla transizione ecologica che invece i gruppi dominanti ci propongono grazie mille Gennaro e grazie davvero per il tuo contributo davvero davvero attuale dall'inizio dalla menzione che giustamente hai fatto ad Adile alla lotta dei lavoratori della logistica ma continuando un po' veramente su tutta la linea mi viene tra l'altro da fare un brevissimo inciso prima di continuare nella discussione un po' così come l'avevamo prevista ed immaginata nel senso che molte delle cose che hai detto mi sono sembrate immediatamente collegate a quelli che sono un po' i temi che stiamo andando a costituire a costruire a discutere verso la mobilitazione che ci sarà il 9 e 10 luglio a Venezia contro il G20 su economia e finanza una mobilitazione appunto che non è stata e che non verrà attraversata unicamente da quei movimenti da quei processi da quei percorsi che fanno delle lotte per il reddito il cuore del proprio discorso ma che verrà attraversata davvero da movimenti transfeministi da movimenti per la giustizia climatica dal sindacalismo di base e da molto altro proprio per andare a definire ancora una volta come di fatto il processo di finanziarizzazione della vita impieghi ed implichi qualunque aspetto della vita la sfera non solo produttiva di cui giustamente tu ci hai parlato ma anche la sfera riproduttiva e banalmente l'estrazione di valore anche da tutta quella che possiamo definire un po' come natura a buon mercato ecco il concetto di questa economia di questa messa a profitto a valore che incentra il valore della crescita il pregio della crescita su un elemento molto numerico che è quello del PIL e non mette invece al centro effettivamente dell'economia quello che dovrebbe essere il benessere delle comunità delle popolazioni che abitano questo pianeta insieme appunto al resto della biosfera ed è un po' su questa linea in realtà che vorrei presentare i nostri prossimi ospiti che sono Michele e Pietro del collettivo Epidemia che ringrazio tantissimo di essere qua questa sera a cui vorrei un attimino chiedere dopo appunto una discussione molto lunga che ha messo in evidenza tante delle contraddizioni che ci siamo trovati a vivere tanti dei limiti quale possono essere invece degli elementi effettivamente di alternativa per costituire per attraversare effettivamente un'alternativa se esistono delle esperienze mi immagino che la risposta sia sì in realtà per uscire un po' da questa da questa logica di una forma anche banalmente di socialità che deve essere un po' sempre all'insegna delle logiche del profitto e della produzione nel piccolo questo festival vuole costituirsi un po' come questa alternativa è un'esperienza ovviamente limitata nel tempo che dura solamente un mese però ecco mi chiedo se dal vostro punto di vista che ritengo in questo caso un osservatorio davvero privilegiato abbiate qualcosa da condividere va bene grazie Anna Clara e a tutta l'organizzazione e a Gennaro per essere intervenuto e a tutte le radioascoltatrici e le qui presenti io mi chiamo Pietro e appunto come Michele abbiamo anche diciamo il grande privilegio di poter portare avanti un lavoro di ricerca come anche organizzazione materiale della nostra vita quotidiana che comprende anche un reddito quindi eccetera ecco sì diciamo che mi sento anche privilegiato a intervenire a questo punto della discussione con tutti questi spunti meravigliosi e sono anche molto emozionato se mettessi il microfono all'altezza un po' più bassa della mia bocca forse sentireste il cuore che fa boom boom diciamo che per quel che riguarda la costruzione di alternative come dicono gli zapatisti anche a costruire come alternativa alla distruzione mi aggancio subito a quello che diceva Giovanni il compagno prima rompere l'isolamento come mantra o come una linea guida del progetto dei collettivi di ecologia politica del libro dei seminari durante la pandemia a proposito grazie per esservi mobilitate per aver organizzato quelle iniziative in quel momento che è stato difficile che ci ha che ci ha spinte tutte isolate molto di più e questa cosa io la sento tuttora lo pago come prezzo di questo periodo di isolamento imposto quando scendo in città sento il disagio nel riavvicinarmi a tante persone diciamo che è una dimensione fortemente esistenziale cioè che si allarga si espande velocemente nelle nostre percezioni nelle nostre nelle nostre vite rompere l'isolamento che cosa può voler dire nelle nostre pratiche per esempio quella di costituirsi in dei collettivi in delle reti organizzare un festival organizzare occasioni di incontro di discussione di sciopero di lotta può voler dire riorganizzare le condizioni materiali come diceva anche prima Gennaro materiali concrete del quotidiano della vita quelle che in tanti chiamano anche infrastrutture come spazi di esistenza sulle quali scorre l'esistenza ecco nella costruzione di alternative di via di fuga di pratiche di riappropriazione di quella che quella che considero appunto importante è proprio questo termine delle infrastrutture noi abbiamo parlato spesso per esempio nel lavoro del collettivo epidemia di agroecologia innanzitutto per esempio già nel costituirsi come collettivo nella condivisione di esperienze di lavoro di dati di metodi di forme di cura già quella è una pratica è una modalità di rompere l'isolamento rompere l'isolamento però è anche avviene anche a tanti altri livelli secondo me l'isolamento anche fra società ed ecologia fra lotte per la giustizia sociale e per la giustizia climatica come dicevate anche voi nel vostro libro l'agroecologia si pone in maniera molto forte rispetto a questo e diciamo che abbiamo osservato lo stiamo osservando come convergano anche diverse percorsi di lotta e di rivendicazione e riappropriazione dei corpi e del vivente le lotte transfeministe l'antispecismo le lotte contro la devastazione dei territori e così via in un campo di lotta che appunto quello come l'agroecologia ha al centro per dire la riproduzione delle comunità no? cioè l'approvvigionarsi di cibo genuino che poi abbiamo visto appunto anche durante la pandemia si diceva i braccianti considerati lavoratori essenziali per portare avanti l'agribusiness l'agroindustria l'approvvigionamento di cibo industriale per le città per i supermercati che erano diventati quasi l'unica opportunità di assembrarsi di intravedere visi amici no? mentre abbiamo visto invece la chiusura dei mercati contadini o le grandi difficoltà dei piccoli produttori dell'agricoltura di prossimità a continuare ecco come per esempio giustamente prima si parlava dei movimenti climatici come mobilitazioni che hanno portato una grande ventata di novità anche ma seppur come come forma di lotta hanno comunque rappresentato lo schema di movimenti sociali come siamo stati anche abituati in un certo senso a osservarli a partecipare in questo secolo cioè lo scendere in piazza e rivendicare politiche più lungimiranti eccetera la guardare alle forme di organizzazione materiale concreta e pratica la creazione di nuove infrastrutture dal basso in autonomia ci porta un po' secondo me ai margini di questi movimenti cioè quello che per esempio Papadopoulos chiama movimenti più che sociali movimenti che si basano proprio sulla rottura dell'isolamento fra fra umano e non umano per esempio l'agroecologia secondo me diventa un ottimo un ottimo modo di capire che cosa può essere un movimento più che sociale di carattere per esempio anti antischiavista abolizionista qualcuno dice no? cioè citavano prima le lotte per gli schiavi le lotte degli schiavi no? come prima forma di di nesso fra cioè di di lotta che evidenzia il nesso fra ecologia e lavoro possiamo cioè per me l'agroecologia è abolizionista nel senso che ovviamente rivendica un ruolo diverso del bracciantato che troppo spesso sono corpi razzializzati ma anche ma anche il carattere estrattivo del tipo di relazioni che l'uomo pensa di intrattenere col non umano con la natura no? rompere l'isolamento vuol dire in questo senso riorganizzare riorganizzarsi e sperimentare anche passo passo subito la parola a Michele o a Clara prima sì in realtà grazie mille davvero Pietro ci sono diverse cose che mi hanno molto incuriosita anche perché ammetto insomma la mia assoluta ignoranza in alcuni campi però appunto alcune anche categorie banalmente tu prima menzionavi il concetto di agricoltura di prossimità ripensando a tutto quello che è stato l'ultimo anno ha tutto il discorso sull'esigenza di una sanità pubblica di prossimità di queste strutture effettivamente molto più parcellizzate territoriali che però abbiano un immediato riscontro sulle comunità appunto a cui a cui si rivolgono in cui sono in una situazione di prossimità ecco questo è sicuramente un elemento che mi ha molto incuriosito io in realtà appunto chiederei anzitutto a Michele se ha da aggiungere un po' su questo dell'altro e sempre un po' nel flusso oso un'altra domanda se pensiamo un po' anche banalmente davvero alle recentissime politiche economiche alla dichiarazione di volontà di elargire questi fondi straordinari a patto che siano investiti in progetti green questa incredibile capacità che il capitalismo ha un po' di riformarsi rimodellarsi e adattarsi mi chiedo anche se esista una tendenza di questo tipo legata anche all'agroecologia se quindi oltre alle esperienze diciamo più genuinamente locali dal basso come sono state quelle un po' definite finora esista un tentativo del capitale anche di appropriarsi un po' di questi meccanismi e se sì in che modo effettivamente si costituiscano e impattino grazie sì grazie mille innanzitutto dell'invito e grazie a tutti e tutte di essere qua ci hai dato un compito un po' difficile devo dire io non mi azzarderei a dire che stiamo qua a indicare a nessuno un'alternativa che noi abbiamo chiara quantomeno sicuramente appunto ci sentiamo un po' appunto in questa cosa che è rappresentata la parola agroecologia che riesce un po' a declinare una questione di sapere che è appunto un sapere che non è per il progresso della scienza quindi questa questa conoscenza vista come progressiva e cumulativa e declina insieme al sapere una pratica di movimento che era un po' quella che raccontava Pietro diciamo di riorganizzazione materiale della vita e della vita delle comunità proprio e quindi e poi anche delle pratiche in questo caso parliamo di pratiche agricole in particolare diciamo l'agroecologia però viene a dire anche che non tutti quelli che fanno parte del movimento di agricologia devono essere per forza dei coltivatori o degli agricoltori così come noi tradizionalmente siamo abituati a pensare questa questa funzione diciamo in Italia io credo che la parola l'agroecologia sia stata declinata e sia stata per adesso ancora propria di queste forme di movimento che già abitano la nostra penisola cioè quindi ha questo valore anche forte di rottura rispetto a quello che già sta facendo soprattutto rispetto al cibo il capitalismo green italiano e comunque il cibo è un brand incredibile di incredibili guadagni per tutto il capitalismo italiano quindi diciamo che già ha messo delle buone basi per riprodursi anche in questo senso però in altri in altri luoghi per esempio io sono stato recentemente in Spagna e stavo in questo posto che si chiama il mar il mar di plastico quindi un mar di plastica che è l'Echido diciamo l'Echido è un paese all'interno di questo paesaggio caratterizzato da serre da una distesa incredibile di serre tanto che sono visibili dai satelliti proprio e a un certo punto ho visto questo cartello che ho scritto agroecologia a 150 metri allora questa cosa io la racconto spesso perché è indicativa in realtà però per dire che ovviamente l'agroecologia non poteva essere a 150 metri per come io sono abituato a comprendere questa parola no? ma in quel caso indicavano esclusivamente un tipo di agricoltura biologica se vogliamo o comunque appunto senza l'utilizzo di fitofarmaci che poi pure questo è da vedere però insomma ecco qua sta un grande scarto che pure ci riporta un po' al discorso di Gennaro no? cioè l'agroecologia parla molto anche del lavoro dell'organizzazione del lavoro umano dietro alla produzione e l'approvvigionamento agricolo quindi la produzione anche per la riproduzione no? e quindi come noi anche creiamo delle infrastrutture sociali per garantire queste cose e quindi sicuramente come tante cose è appropriata questa parola cioè e sicuramente tutto il discorso sul ritorno alla terra è un discorso che viene continuativamente significato da realtà esterne che vogliono dire cosa devi fare come lo devi fare come può essere l'agricoltore 3.0 4.0 6.0 cioè alla fine è così e infatti la nostra lotta diciamo che è proprio all'interno di questa cosa qua e quindi è in un paesaggio diversamente denso perché noi comunque con la pandemia abbiamo iniziato proprio a ragionare sulla densità no? su come la città era diventato un luogo pericoloso da che le campagne sono sempre state piene di mostri di lupi di fantasmi di a un certo punto questi si riversavano no? nella città noi abbiamo ragionato abbastanza su questo no? e la campagna era diventata il posto di liaco dove pochi fortunati o chi non si credeva fortunato e poi si è ritrovato ad essere fortunato stava e quindi poi da là appunto una riflessione sulla densità su come rispetto diciamo se guardiamo dei periodi storici un po' più lunghi si stia creando questo scarto appunto e quindi diventa la tanta densità sintomo di presenza di cose mostruose che possono essere appunto un virus invisibile o anche il ritorno degli animali ferali nelle città no? questo che però poi ha portato molto più spesso a un rincanto della natura no? quindi questa visione sempre più di liaca di quello che sta fuori la città che in realtà è pieno di epidemie mi fermo perché se no vado avanti ah vabbè è pieno di epidemie c'è un'altra cosa che forse vorrei dire allora in chiusura è che la realtà epidemica noi ci chiamiamo collettivo epidemia perché abbiamo studiato la Xirella quindi ben prima della pandemia avevamo trovato nel discorso epidemico un'angolatura molto interessante per noi è guardare alla civiltà del capitale e ai suoi processi di immunità proprio di come creasse una comunità attraverso una definizione di cosa rendesse immune da un certo tipo di malattie quando te fai un orto semplicissimo ti rendi conto che le epidemie gli afidi i parassiti sono dietro l'angolo ci sono sempre no allora pure là la differenza tra una pandemia diciamo un'epidemia molto spesso è data da appunto l'agricologia non è una realtà a epidemica ma è una realtà in cui l'epidemia si manifesta in un certo modo che non è un modo probabilmente che diventa pandemico ovviamente questo è molto minacciato da da tutto l'agribusiness e questo sistema di produzione di cibo mondiale che rende ovviamente anche inutili i tentativi delle piccole isole verdi di fare qualcosa di buono grazie grazie davvero di nuovo Michele Pietro in realtà diciamo siamo arrivati in conclusione della discussione di oggi per cui ringrazio brevemente di nuovo tutti i nostri ospiti del collettivo Until the Revolution di ecologia politica Bologna Pietro e Michele del collettivo epidemia e Gennaro Vallone dall'università degli studi di Salerno ringrazio di nuovo il pubblico in presenza e chi ci ha ascoltato dalle frequenze web di Radio Sherwood vi invito ad ascoltare il concerto che inizierà in realtà tra non molto e buona prosecuzione e buona serata a tutti e tutte che inizierà Grazie a tutti.